Buon pomeriggio dal Trapper Santfield di Cecina. Tra poco assisteremo all'ultima partita di regular season tra le Aquile Ferrara e i Trappers Cecina, una partita che ai fini della post-season per i Trappers non ha valore perché purtroppo non siamo riusciti a centrare i play-off quest'anno, però ha grande valore dal punto di vista sportivo perché si saluta il pubblico e riusciamo in questa bella cornice del rinnovato campo di Cecina anche ad ospitare una squadra storica del football italiano come le Aquile Ferrara. Qui accanto a me oggi in commento c'è David Nicosia, giocatore purtroppo attualmente infortunato e quindi mia spalla al commento. Ciao David, buon pomeriggio. Ciao Vito, grazie a tutti per esservi collegati con noi. È vero, partita che a livello statistico non dice nulla su quello che sarà il futuro dei Trappers per questa stagione, ma che potrebbe dare tanto morale e soprattutto potrebbe dimostrare che quelli che sono stati sconfitti di questa stagione sono stati solo dei piccoli passi falsi durante un percorso di crescita ben più importante e complesso. Esatto, vediamo intanto l'ingresso in campo dei Trappers, senza musica, come gruppo coeso e compatto, un bel segnale anche in vista della prossima stagione perché la squadra deve far tesoro di quelli che sono stati gli errori del campionato e appunto farne tesoro e far sì che dal prossimo si possa migliorare. Un progetto, quello dei Trappers, che è ripartito quest'anno con una coaching staff rinnovata, Bart Iaccarino, coach Mark che hai avuto te in difesa, ecco dimmi qualcosa di più di questi coach, come è andato quest'anno? Allora c'è da dire che sono due coach molto diversi e si può vedere anche da come si comportano i due reparti allenati perché coach Bart quest'anno si è concentrato principalmente sull'attacco, è stato il nostro offensive coordinator, coadiuvato ovviamente per quanto riguarda le linee da coach Roberto Matta, mentre Mark con l'aiuto di due ex giocatori come Quarticelli e Sabba ha organizzato una difesa ben diversa rispetto a quella che avevamo negli anni scorsi, soprattutto l'anno scorso che è stato il nostro primo anno di seconda divisione, anche l'attacco è stato completamente rimaneggiato con nuove idee di gioco e nuovi schemi che hanno portato comunque ottimi risultati c'è da dire in stagione. Ovvio i playoff sono un punto importante per una squadra, però non sono tutto, soprattutto una squadra nuova come la nostra che quest'anno ha avuto nuovi innesti e soprattutto un gran salto di qualità dovuto alla creazione da parte di coach Bart della giovanile. Basti pensare che già adesso in prima squadra ci sono tre ragazzi della giovanile che due hanno giocato tutto il campionato mentre uno oggi farà il suo esordio in campo. Non so se lo vedremo perché è un giovane QB cecinese, però so, avendo seguito comunque da vicino lo sviluppo della giovanile, che da ottobre a oggi hanno fatto dei grossi grossi passi in avanti. Sì esatto, diciamo che il progetto è un progetto a lungo termine che sicuramente non esaurisce il suo fine, il suo obiettivo con il campionato senior. È chiaro e inutile nasconderci che l'idea, l'obiettivo era quello appunto di, per quanto riguarda questa squadra, di confermare quantomeno i playoff raggiunti l'anno scorso. Non è stato possibile. Chiaramente come in tutti gli sport esiste anche l'avversario e c'è da fare i complimenti sicuramente sia alle Aquile sia ai Viper Oggs che rispetto all'anno scorso, appunto lo dice anche il nome, si sono rinforzati con l'aggiunta dell'esperienza che arrivava da Modena dei Vipers. Quindi gli Oggs hanno creato questo team unificato con i Vipers, due squadre di talento, due squadre di tradizione nel football italiano. I Vipers addirittura con l'esperienza dell'anno precedente in prima divisione in EFL e questo chiaramente ha rappresentato un bello scoglio per i Trappers, scoglio sul quale sfortunatamente i nostri cacciatori si sono incagliati. Sì, sicuramente ci aspettavamo un miglioramento da parte di tutte le squadre del Girona e comunque c'è da dire che c'è stato un netto miglioramento sia anche per i Grizzlies con alcuni innesti dai predatori, viene da citare il solito Di Giorgio perché è un po' l'emblema, ma anche i Chiefs hanno dimostrato di essere nettamente migliorati e l'abbiamo visto nella partita di due settimane fa proprio qui a Lansfield e questo sicuramente ha portato a un girone molto più difficile rispetto a quello che i Trappers avevano affrontato l'anno scorso. Le Aquile sono rimaste il caposaldo del nostro girone e sono ancora un più che valido candidato per la vittoria finale. C'è da dire che l'unica sconfitta stagionale è avvenuta proprio contro di noi a dimostrazione del fatto che le qualità la squadra le ha, è mancata forse un po' più la continuità piuttosto che la qualità in sé. Questo anche appunto dovuto all'innesto di tanti giocatori nuovi, un nuovo sistema di gioco da parte degli allenatori che per quanto ci si lavori da ottobre comunque sono tutte ideologie, modi di allenare che devono entrare nel modo poi di fare del giocatore e magari soprattutto per alcuni giocatori ci vuole più tempo di una stagione. Intanto Cointos con i capitani al centro del campo, per Cecina vediamo Giovannini Setti, il QB Fedeli e De Cunzolo mentre Ferrara fa una scelta un po' particolare mandando al Cointos Giuliano Cappellini, ex Trappers che si è trasferito appunto per motivi personali in quel di Ferrara e quest'anno è al primo campionato con le Aquile. Gli altri capitani sono Ropa, Bindini e se non erro Mazzoni con il numero 41 e quindi niente, se non ho visto male i Trappers partiranno ricevendo il calcio, ricevendo il kick off da parte di Ferrara e niente non resta che da dire buon football. Eh sì, ora vediamo già appunto Tesi e credo Liverotti sì, sì, vedo appunto numero 20 Liverotti che si apprestano a ricevere il calcio mentre per Ferrara dovrebbe essere il solito numero 32 Romagnoli a effettuarlo. Sì, vediamo una bella prima linea da parte dei Trappers con Giorgi De Cunzolo Bolzoni e Garbarino e Redditi e dietro invece abbiamo Vaino, Setti, Stefano e Giovannini. Sì, tutto pronto quindi vediamo Romagnoli che prende la rincorsa e parte il calcio che non è molto alto ma è profondo, la palla sembra uscire e in effetti è uscita quindi il calcio è andato direttamente fuori dal campo. È ottima qui la decisione di Tesi che ha aspettato il rimbalzo del pallone ha visto il pallone avvicinarsi alla sideline e questo ha permesso quindi una volta uscito di scaturire in un fallo e questo comporterà 5 yard di penalità e nuovamente un calcio da parte di Ferrara quindi calceranno più indietro e questo permetterà ai Trappers di ritornare magari anche più avanti il pallone. Sì, in effetti ecco, nuovo calcio da parte di Romagnoli Sì, ancora Tesi e Liverotti sempre in attesa di ricevere il pallone parte di nuovo il calcio, questa volta è molto buono e la palla va fuori dal campo quindi si ripartirà dalle venti. Sì, alla fine Romagnoli ha dimostrato che le 5 yard di penalità erano del tutto inutili perché la potenza del suo calcio non ha minimamente subito alcuna penalità da parte della flag precedente quindi dalle venti, prima i dieci Trappers. E adesso vediamo l'attacco Trappers in campo vediamo il rientro di Baba che nell'ultima partita è mancato tantissimo purtroppo infortunato vediamo anche il rientro in campo del numero 65 il nostro Nimo, anche lui fuori per infortunio e poi vediamo l'esordio da starter per Petrillo Eh sì, causa l'assenza di Zeng e Di Maggio oggi inizierà Max che subito apre il buco per 4 yard del nostro solito Carlo Garbarino Sì, forse un pochino meno di 4 però subito una portata per Carlo Garbarino che rappresenta la certezza per questo attacco adesso schierato come ricevitore vediamo, la palla arriverà nelle mani del QB Fedeli Palla questa volta all'altro running back Stefano Setti che porta avanti anche lui il pallone per altre 3 yard e quindi se non sbaglio sarà un terzo e tre praticamente Eh sì, sì, sì due azioni di corsa consecutive hanno provato a far uscire Garbarino per allargare un po' le maglie della difesa avversaria ma le acule si sono tenute ben strette vediamo sempre Fedeli in cabina di regia è un lancio palla toccata dal numero 10 Ropa Ivan che quindi condanna i tre uppers a un quarto e tre ottima l'elettura di Fedeli ma bravissimo il linebacker delle acule a blizzare e alzare le mani per impedire la corretta esecuzione del lancio e quindi sembra appunto che sia tutto pronto per il punt le acule addirittura schierano due possibili ritornatori parte il punt dei trappers la palla non è profonda e viene toccata dal numero 21 Nicola Quarta che tocca la palla non sappiamo perché onestamente ferma mi sa che essendo Nicola Quarta uno dei giovani ragazzi mi sa che non gli hanno spiegato bene come funziona lo special team poiché se avesse lasciato probabilmente andare il pallone il pallone avesse toccato l'avversario la palla sarebbe stata attiva e quindi poteva essere una palla buona per i tre uppers intanto vediamo il QB di Ferrara Scaglia che è pronto allo snap provano a indurre al fuorigioco la difesa trappers non ci casca sposta il running back Cappellini va Scaglia al primo pallone De Cunzolo impedisce che il numero 21 arrivi agilmente sulla palla e quindi sarà un secondo tentativo Cappellini quindi schierato come running back da Ferrara dopo una carriera da ricevitore qui a Cecina C'è da dire che ha sempre dimostrato una predilizione per il ruolo di running back Giuliano infatti quando poteva si divertiva sempre a sostituire Carlo Stefano infatti subito una portata per Cappellini riesce ad aprire bellissimo lo stiff arm bellissimo lo stiff arm di Cappellini che si libera di Rossetti con facilità e viene poi spinto fuori da De Cunzolo ma riuscendo a portare alla sua squadra un guadagno di ben oltre 20 yard qui ottimi ottimi blocchi della linea d'attacco estenze perché hanno permesso veramente a Giuliano di correre indisturbato per una decina di yard buone quindi ottimo lavoro della linea che sappiamo essere un punto forte di Ferrara infatti sì nonostante qualche assenza però ecco la linea sembra molto buona qui intanto Ferrara esulta per un touchdown ma in realtà l'arbitro segnala che la presa è stata effettuata fuori dal campo e qui no niente l'arbitro ci ha ripensato dopo aver parlato con i giocatori di Ferrara l'arbitro inspiegabilmente cambia cambia la chiamata noi da qui non riusciamo a vedere effettivamente quale sia se sia stata effettivamente una recensione in campo oppure no però mi era sembrata anche a me abbastanza lunga intanto touchdown del numero 12 Bindini uno dei ricevitori preferiti dal QB Scaglia quindi sicuramente target ostico per la difesa voi da casa riuscite a vedere anche il replay intanto si va al calcio addizionale vediamo il calcio va sempre Romagnoli il calcio è buono e quindi 7-0 per le Aquile c'è stato un po' di confusione su questo su questo lancio la copertura è stata tardiva mi sembra sempre di Rossetti che non è entrato benissimo in partita e qui il pubblico lo fa notare vengono appunto ok viene viene incitata la squadra a mostrare attributi in campo e quindi ora si parte di nuovo con il calcio da parte di Ferrara vediamo come risponderanno il ritornatore c'è da dire sicuramente la difesa si è fatta trovare subito impreparata soprattutto sulla corsa di Cappellini mentre il lancio secondo me fuori misura la palla di Romagnoli entra nuovamente direttamente in end zone e di conseguenza si riparte ancora dalle 20 dalle 20 vediamo un po' se l'attacco dei Trappers darà una scossa a questa partita come ha fatto l'attacco di Ferrara sicuramente un'ottima decision making da parte del coach delle Aquele basta cacchierare! voglio vedere le legnate! la città da passano! andiamo! vediamo di nuovo Fedeli palla Carbarino che non riesce a trovare lo spazio necessario per allungare che prende le classiche due yard che Carlo ci garantisce sempre come portata e vediamo adesso come come si schiererà di nuovo l'attacco nuovamente Carlo fuori come ricevitore Stefano Setti come running back tanto Fedeli al lancio palla indietro per Stefano Setti che non viene ricevuta Ferrara aveva provato a cambiare schieramento della linea difensiva all'ultimo secondo questo non aveva creato grossa difficoltà la linea d'attacco di Cecina ma il lancio del QB era fuori misura lancio impreciso dall'altro sembrava indietro invece hanno considerato un incompleto gli arbitri nuovo lancio ancora Fedeli e qui ancora la palla viene lanciata fuori lancio fuori misura per redditi probabilmente il vento non ha aiutato ma anche la pressione che sta subendo in questo momento il QBD 3 Uppers non facilita sicuramente il lavoro su questi schemi di lancio un po' di difficoltà in questo momento nei primi drive d'attacco per la squadra di casa di nuovo costretta al punt ancora Camorani se non erro si 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 è l'uomo deputato a calciare vediamo speriamo nel frattempo abbiano avvertito quarta del fatto che non deve toccare il pallone questo invece è un caso in cui il pallone va toccato perché il pallone stava rimbalzando pericolosamente verso la nostra endzone c'è da dire che entrambi gli esterni quindi i killer come vengono detti in gergo durante il punt sono due rookie perché sono quarta e Giorgi e sicuramente non è che hanno masticato molto questi special team poi c'è anche da dire che c'è un vento abbastanza diciamo presente quindi magari il punt di Camorani viene rallentato da questo vento quindi è un po' più corto del normale nel frattempo ci sono dei movimenti pre snap in linea la difesa dei trappers accusa l'attacco delle aquile vediamo cosa decidono i ref sembra appunto una falsa partenza da parte della linea d'attacco e quindi cinque yard di di penalità ed è si ripete il primo down quindi molto bene il movimento della linea di difesa che ha intratto in inganno l'attacco adesso vediamo nuovamente scaglia in cabina di regia ancora cappellini come running back subito un passaggio corto e vengono prese le prime cinque yard da parte dell'attacco anche se guarda caro vito perché mi sa che abbiamo eh sì sei yard da parte dell'attacco su questa screen per il numero 24 io e ora difesa un attimino da da settare e soprattutto sull'esterno in questo momento mi è sembrato sta un po soffrendo esatto ancora cappellini running per questa volta dietro e la palla arriva effettivamente a lui che riesce a girare bene l'angolo e a chiudere il primo down quindi bolsoni nella posizione di safety quindi di sicurezza arriva a chiudere il placcaggio subito dopo la chiusura del down ma qui ancora una volta sull'esterno ha fatto male il buon giuliano alla nostra difesa dispiace perché comunque abbiamo una linea di difesa con degli ottimi elementi soprattutto sull'esterno come Sousa e Dixon e anche scaramelli all'occorrenza che però in questo momento sembra non non stare lavorando bene o comunque sta soffrendo molto la forza e la fisicità della linea d'attacco delle aquile esatto con Tain che viene diciamo annullato e di conseguenza poi si riesce a sviluppare bene qui intanto scappa scaglia col pallone in mano riesce a trovare il ricevitore libero poi c'è un uno scontro di gioco tra il ricevitore e la safety De Cunzolo effettivamente è il limite questo scontro c'è da dirlo diciamo che il 23 è andato un po' sul pallone e un po' sull'avversario il ref ha deciso che comunque è uno scontro che ci sta comunque il nostro è uno sport di contatto quindi può succedere quando vai a cercare il pallone ogni tanto ti trovi l'avversario nel frattempo nel frattempo Sosa passa la linea di scrimmage prima che l'attacco abbia messo in gioco la palla e di conseguenza penso che questo sia un fallo ai danni dei padroni di casa eh sì penso sia uno dei nostri soliti offside della difesa che purtroppo ci hanno condizionato negativamente nella gara contro contro Ravenna va bene cercare di portare pressione però insomma se questo cercare di portare pressione poi ti genera dei danni quindi regala campo agli avversari forse è il caso di registrare un po' eh sì sono pienamente d'accordo e soprattutto va bene portare pressione ma ricordiamoci che l'obiettivo principale è bloccare l'azione quindi cerchiamo di mantenere un attimo che le sono le direttive e ci danno i coach e siamo a poco meno di 7-8 yard dalla red zone trappers quindi vediamo ora l'attacco di Ferrara secondo e sei circa cinque sei yard probabilmente qui il centro qui il centro non ho capito cosa ha fatto probabilmente non era stato ancora chiamato all'inizio della della giocata bello il lancio e bella la ricezione del numero uno che brucia finale fabio brucia liberotti in una post mi è sembrato perché sembrava proprio una post esattamente a tagliare sotto i pali e ottimo ottimo il movimento di cardinale che si è inserito appunto tra la copertura del cornerback liberotti e la safety non so se da quel lato era De Cunzolo Bolzoni difesa che si lamenta lamenta con gli arbitri anche probabilmente per il movimento illegale dell'attacco prima del dello snap certo è che comunque il ricevitore ha fatto un gran movimento ha bruciato in maniera netta attenzione intanto c'è lo snap sbagliato e quindi la la trasformazione non non va a segno quindi siamo 13 a 0 sicuramente devono svegliarsi i trappers perché sennò sarà un lungo lunghissimo pomeriggio e l'idea di gioco che avevano impostato gli allenatori non è assolutamente questa e i giocatori possono fare nettamente meglio e devono fare nettamente meglio e sicuramente le aquile non stanno regalando nulla ma allo stesso modo devono iniziare a vendere cari alla pelle perché se no sarà un lunghissimo pomeriggio per tutti i trappers e tutti i tifosi sicuramente il fatto di non giocarsi playoff può incidere a livello di testa però l'orgoglio non deve mai mancare e di conseguenza speriamo che la squadra reagisca e che ci sia partita ecco mi aspetto sicuramente ora è già presto visto nemmeno finito il primo quarto ma mi aspetto un discorso importante negli spogliatori da parte di coach Garbarino è jaccarino è difficile ancora l'attacco in campo ancora quindi la nelle di l'attacco in campo con petrillo bianchi tamberi bella bello il movimento di bianchi si sposta per andare aprire lo spazio verso sinistra per mi sembra garbarino abbia portato il pallone e prende prende quelle cinque yard buone speriamo che questo dia un po la scossa alla squadra quello è sicuramente servirebbe adesso è un primo down che potrebbe dare quella scossa elettrica che ci serve ancora fedeli che lancia il pallone fuori misura e quindi ancora un terzo tentativo e 56 yard da da prendere per i trappers quello che appare evidente adesso che il gioco di lancio non sembra ancora partito mentre le corse bene o male due tre yard e riescono sempre a portarle a casa ancora fedeli questa volta garbarino riesce a ricevere il pallone di fedeli primo down trappers e speriamo che inizi adesso a macinare l'attacco si attacco che quando il gioco si fa duro si affida al più duro di tutti ovvero al nostro carlo che è una sicurezza per terra operaria motion di carlo lo snap un po alto stefano setti supera il primo uomo che gli arriva addosso ma poi finisce addosso tutta la difesa riesce forse a guadagnare qualche centimetro sarà secondo tentativo e ancora quasi forse nove yard da 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 conquistare per l'attacco trappers linea d'attacco che ha un po di problemi a spingere via adesso è un secondo te no completo alla ricezione risulta incompleta babs qui di conseguenza sarà un terzo tentativo e 9 di nuovo non abbiamo visto onestamente se effettivamente fosse incompleto no la sideline aquile chiamava a gran voce l'incompleto quindi probabilmente non è stato ricevuto adeguatamente ancora fedeli che però subisce tantissima pressione il pallone muore insieme a lui ben oltre le sette yard dal dallo snap quindi insomma una grave perdita di terreno da parte dell'attacco trappers e sarà nuovamente un punt di allontanamento eh sì linea che non ha retto non ha dato nemmeno un minimo di tempo a fedeli per leggere la difesa avversaria c'è da dire che in questo primo quarto il vento quindi anche le condizioni atmosferiche non sono a favore dei trappers ora vedremo visto che comunque cambiano il pallone ancora una volta rimbalza in maniera negativa e per il nel campo trappers viene tirato su da capitan giovannini effettivamente il vento il vento può essere un fattore adesso perché obiettivamente inizia a essere forte quindi anche per il quarterback non è semplice mettere la palla in aria però proprio per questo forse affidarsi maggiormente alle corse potrebbe essere la soluzione no quella sicuramente o saperlo sfruttare come ci hanno dimostrato i nostri avversari estensi che comunque hanno segnato due touchdown su due lanci anche molto profondi quindi è una questione anche di gestione ora vediamo un po la nostra difesa se sale un po di tono e di livello cosa è nettamente in grado di fare ancora scaglia in cabina di regia palla per cappellini che riesce di impeto a prendere cinque yard bloccato da dixon però nel centro del campo buono ancora una volta ottimo il lavoro della linea d'attacco estenze che dimostra tutta la sua solidità e la sua forza sì decisamente sì l'attacco di ferrara sembra effettivamente in grado di macinare yard senza essere fermato vediamo adesso motion del 24 che sposta la difesa e poi scaglia lancia sotto la pressione di dixon il pallone chiaramente è impreciso è un incompleto e sarà un terzo tentativo e quattro yard probabilmente si vediamo come la linea di di attacco estenze sia molto 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 forte su sulle corse vista anche la il notevole peso dei suoi componenti mentre grazie appunto alla velocità che caratterizza la nostra linea difensiva quando c'è un lancio riusciamo comunque a dare una buona pressione al qb il problema è fermare completamente questo attacco perché ancora purtroppo non ci siamo riusciti intanto aggiungono peso dentro miletti giocatore abbastanza strutturato infatti si va a correre con cappellini che gira bene l'angolo e riesce ampiamente a prendere il primo down al arrivato di bolzoni dalla secondaria però non dovrebbe essere lui il primo uomo l'uomo a completare il placaggio dovrebbe essere un aiuto questo caso sicuramente c'è da fare degli aggiustamenti per quel che riguarda la nostra difesa soprattutto il nostro box non ho moltissima esperienza da difensore ma se su una corsa arriva sempre la safety c'è qualcosa che non va è sì ecco è esattamente questo è sintomo di di una problematica ancora palla questa volta per romagnoli quindi running back di possenza ma trova sulla sua strada l'accoppiata tour e scaramelli che riesce zazzeri scaramelli zazzeri ok mi sembrava tur e ora al 97 mi perdonerà a tommaso per avergli tolto questo questo bel intervento su romagnoli ottimo lavoro del tè con le dell'end in combinazione aggettività magnoli rispetto a cappelletti e un running back molto più situazionale da ok che siamo a ferrara ma cappellini resta cappellini non diventa cappelletti giuliano mi perdone si vede che c'è un po fame palla ancora uno screen bindini fermato subito da rossetti finalmente anche i nostri corner back sembrano essere entrati in partita adesso vediamo è un terzo negativo e sei presa da bindini quindi ottimo l'intervento di rossetti e si fa aiutare dal miglior difensore in campo ovvero la linea la sideline che è l'unico difensore non sbaglia mai ancora una situazione di quattro ricevitore per ferrara un lancio tanta pressione su sky di vaino credo che sia il primo sec in carriera per prima partita da titolare in carriera per valerio vaino e sec di valerio vaino su un doppio blitz da parte dei due linebacker esterne abbiamo visto infatti subito il capitano giovannini andare a mettere pressione e costringere scaglia risalire ottimo ottimo l'intervento di vaino che subito ha accolto all'occasione romagnoli andrà al punt ecco che parte il calcio la palla viene fermata bene da cappellini che farà ripartire tra per se mi sembra intorno alle 7 8 yard dalla henson forse 10 già sulle 10 no 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 avevi ragione te vita avevi ragione te siamo sulle siamo sulle 7 8 quindi una situazione comunque non fa senza dubbio una posizione di partenza scomoda ma fortunatamente il cambio il cambio campo potrebbe venirci in aiuto perché andiamo a giocare a favore di vento quindi speriamo che il nostro cubine tenga conto e magari aggiunga qualche yarda sui lanci eh sì eh sì sicuramente sarà un fattore adesso a nostro favore vediamo un po' anche se questo squillo suonato da dalla difesa risuonerà anche per quel che riguarda l'attacco e speriamo bene perché la difesa ha dimostrato e può fermare quest'attacco la sta al nostro attacco dimostrare di poter segnare cosa che ha fatto soprattutto nella partita andata a più riprese quindi cosa è assolutamente in grado di fare decisamente sì la partita d'andata che diciamo ha un po sorpreso per per il risultato noi pronostici ci davano assolutamente sfavoriti invece siamo andati a vincere in quel di ferrara e aprendo diciamo buone possibilità di play off poi un ritorno in casa con con i viper hogs non giocato benissimo e la sconfitta mi sono fatto male dopo due azioni che volevi cioè è normale certo è cambiato tutto è chiaro e poi la sconfitta rovinosa contro la venna ha un po un po diciamo abbattuto anche il gruppo qui nel frattempo si muove la linea di difesa si muove però anche la linea attacco vediamo se c'è stata un'infrazione della linea di difesa o se invece verrà chiamato il fallo della linea attacco se non ho visto male in realtà io sei per un offside della linea di difesa infatti ho visto sia il numero 61 e l'altra defensive tackle se non sbaglio il numero 11 aggredire il nostro nostro centro ben prima che lui ne passi la palla bravissimo il centro tamberi che appena ha visto i due giocatori avversari superare la linea ha snappato causando appunto il fallo esatto cinque yard gratuite che aiutano a diciamo avere un punto di partenza migliore rispetto a prima vediamo adesso come come verrà schierato il nostro attacco palla ancora per setti mi pare stefano setti dovrebbe aver portato il pallone riesco a vedere no garbarino che ha portato il pallone sì carlo garbarino per quante yard non vedo forse un paio guadagnate due yard sì 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 secondo un secondo e tre adesso ottimo ottimo quindi il movimento che in queste situazioni fa sempre bene prendere un po di yard adesso palla per stefano setti che corre nel mezzo e guadagna un primo da un ottimo ottimo il lavoro della linea che costringe la linea difensiva ad aprirsi e a fare guadagnare a stefano setti questo secondo primo down della partita non voglio essere troppo fiducioso ma sembra anche l'attacco stia pian piano iniziando un po a macinare vediamo adesso come si svilupperà questo questo drive dopo aver preso il primo down scappa via fedeli con la palla in mano riesce a trovare un bello spazio a guadagnare credo 8 9 yard tutte sì esatto diciamo che ha sfruttato ha sfruttato la pressione a suo vantaggio vedendo il lato libero del campo e esplorandolo col pallone in mano è riuscito a guadagnare appunto queste otto yard e qui sarà un secondo e due per per l'attacco trappers e fedeli che già nella partita contro la venna aveva fatto vedere ottime qualità atletiche ci ricorda come magari il braccio in questo momento sia un attimo da registrare ma le gambe siano in funzione qui malissimo la linea d'attacco in questo caso il numero 61 della difesa estense entra subito ossa entra subito tra le maglie riesce addirittura ad arrivare su carlo garbarino prima che superi la linea di scrimmage quindi sarà un terzo tentativo forse con un placcaggio addirittura un pelino dietro il punto di partenza precedente quindi vediamo vediamo adesso ancora palla per setti viene 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 fermato nuovamente setti non si capisce se è un primo o no mi sa che sarà un quarto tentativo diamo diamo cosa decidono gli arbitri è un primo è un primo è un primo hanno chiamato un primo gli arbitri setti che sembrava bloccato dopo un primo tentativo di placcaggio da parte della difesa estense invece si riesce a liberare poi guadagna questo palla subito per riccardo setti che entra finalmente in partita con la prima palla ricevuta e le prime sette yard portate con con il con la prima ricezione benissimo riccardo setti qui ottimi anche blocchi riccardo rompe subito il placcaggio del numero 12 bindine che sta anche lui recuperando doppio ruolo bravissimo poi a continuare dopo questo primo tentativo quindi ottimo l'ingresso in campo di ricca che subito fa vedere le sue qualità ancora palla per fedeli che la tiene va a cercare carlo garbarino che scivola purtroppo però riesce comunque a portare a casa un primo down e quindi sarà ancora quattro tentativi per l'attacco dei trappers per provare a macinare ancora a campo si attacco che resta molto in campo finalmente sta facendo un po quello che è il suo lavoro ovvero sta provando a sfiancare gli avversari con calma e pazienza fino a trovare il buco giusto per per segnare ancora fedeli ancora per setti che viene preso dal numero 25 ma riccardo non molla la presa sul pallone aveva fatto un ottimo intervento sul pallone ma purtroppo per lui riccardo in queste situazioni è veramente un uomo con le mani di colla e con forza ha mantenuto il possesso ha guadagnato cinque yard fondamentali si eccezionale eccezionale la capacità di mantenere il possesso sul pallone qui paciurio bravissimo bravissimo stefano setti a sfruttare il diciamo un blocco più di posizione che di potenza di borelli il numero 77 è nascosto bene dietro il numero 77 ed è riuscito a sgattaiolare via per andarsi a prendere il primo il primo down si stefano ha sfruttato un po la differenza sia di peso e di statura con il suo lefty call e questo gli ha permesso quindi di sgusciare sull'esterno senza senza essere visto esatto aveva sfruttato il movimento del te con attenzione e qui è una cosa questa è una chiamata che non capiamo da parte dei ref questo è un attacco creativo al nostro giocatore senza alcun motivo da parte dei giocatori estense che probabilmente hanno dichiarano considerato irricevibile il pallone di conseguenza non hanno considerato falloso l'intervento l'unica spiegazione che mi do perché veramente il ricevitore in salto per prendere il pallone il difensore che gli va completamente addosso con il pallone non ancora in mano avesse avuto il pallone è un altro discorso questo sicuramente un intervento ancora palla per fedeli palla per garbarino che riesce a far il suo il pallone nonostante l'arrivo del numero 10 lineback europa di ferrara e mantiene il possesso e sarà quindi un terzo tentativo 6 yard se vediamo di nuovo due anni in bec belli un po indietro questo pallone probabilmente di fedeli peccato un po indietro questo pallone di fedeli e diciamo redditi riesce solo ed esclusivamente a metterci una mano di solito in allenamento gli basta si vede in partita un po la tensione un po comunque anche questo vento e non ci non ci lascia tregua non ha aiutato vediamo una formazione senza running back quindi gioco prettamente di lancio no incompleto per triga malissimo questo questa mancata catch di baba effettivamente è pesante perché il pallone era veramente sulle mani del ricevitore sì è vero che è stato leggermente toccato dal difensore di ferrara però sembrava sembrava obiettivamente ricevibile il pallone di lanciato da fedeli quindi un peccato ecco sì se nel tentativo precedente potevamo dire fedeli non era stato precisissimo qui tutte le colpe purtroppo ricadono sul ricevitore ora di nuovo in campo scaglia con cappellini al fianco di nuovo palla appunto per cappellini che si insinua tra le maglie e bravissimo scaramelli che recupera dalla posizione di defensive end probabilmente sbagliando il primo placcaggio e recuperando però sul profondo ancora da registrare sicuramente un ottimo lavoro da parte della linea d'attacco estenze che gioca addirittura con tre running back se consideriamo il tight end che si schiera leggermente indietro quindi formazione pesante intanto il pallone lungo il numero 80 rossetti era praticamente quasi riuscito a intercettare ma non è riuscito a fare suo il pallone a tenerlo e quindi sarà di nuovo un secondo tentativo peccato infatti se ne lamenta rossetti perché la presa la presa era abbastanza semplice dai sì diciamo ci ha abituato a prese ben più difficili quindi palla per cappellini che brucia vai non riesce a trovare uno spazio per entrare set 8 yard linea di difesa e ancora una volta si fa un po giostare soprattutto qui sono mancati i primi placcaggi perché comunque cappellini ha dovuto aspettare un po prima di inserire la marcia inizia a correre per bene quindi grande presenza sul lato sinistro e qui è mancato il placcaggio abbiamo visto un paio di giocatori dei trappers cercare addirittura di andare bassi se non sbaglio sia vaino che de consolo ma riescono ferrara riesce a prendere il primo down non riescono a fermarlo una corsa abbastanza dichiarata visto lo schieramento avevano messo ulteriori due uomini in linea hanno voluto correre su quel lato e ce l'hanno fatta purtroppo la nostra difesa si era aggiustata ma ciò non è servito vista anche la differenza di peso e purtroppo in questi casi soprattutto di situazioni in corto yardaggio ci penalizza un po adesso invece formazione aperta con quattro ricevitori e scaglia infatti va subito al lancio è questa volta rossetti finalmente riesce a intercettare rispetto a prima è benissimo benissimo l'intervento di rossetti qui fa suo il pallone la difesa aveva dato già delle avvisaglie prima con l'intercetto mancato per pochissimo adesso rossetti riesce a far suo il pallone speriamo che questa volta l'attacco davvero riesca a portare la palla in fondo eh sì la difesa sicuramente sta dimostrando soprattutto sui lanci che ci hanno unito con i due touchdown di essersi un attimino registrata quindi adesso sta all'attacco soprattutto appunto sui lanci come si è visto prima quando girano ci permettono di muovere spesso la catena basti pensare ai lanci su seti la screen su trigga ora vediamo giorgi in campo al posto di trigga comunque il giovane ricevitore fedeli a tempo scappa e riesce a prendere cinque qualche yard forse sì cinque yard probabilmente vediamo anche seti che viene chiamato fuori probabilmente entrambi i ricevitori principali dei trappers hanno bisogno di rifiutare al suo posto numero 81 buon giovanni va fedeli palla lunga per giorgi ma non riesce ad arrivarci sopra e quindi sarà un terzo tentativo e sei yard sicuramente questo evento come per gli avversari condiziona un po il gioco di lancio due cubi hanno dimostrato comunque di poter lanciare tranquillamente in mano ai giocatori forse quello che viene peggio paradossalmente sono i lanci corti rispetto ai lanci lunghi e se mai stanno riuscendo maggiormente vediamo nuova formazione con quattro ricevitori per i trappers fedeli in cabina di regia è un lancio la palla per redditi che simbola ancora paolino e sulle 10 e viene fermato sulle cinque yard dal cerullo ui se non ha mollato fino all'ultimo il numero 17 che è stato fregato dalla post di redditi e peccato perché veramente qui ottimo ottimo la lettura di fedeli che ha aspettato il taglio bravissimo paolino e da sottolineare veramente anche l'intervento di cerullo ui perché in quelle situazioni sarebbe facile mollare lasciar perdere assolutamente assolutamente infatti complimenti al al giocatore numero 17 perché ho fatto veramente una grande azione e qui intanto arriva il fischio viene fermato fermato una yacht di guadagno forse per per setti vediamo in campo mancini per la prima volta in questo incontro il numero 31 secondo tentativo mancano 5 yard alti di qui bello il pallone per mancini un pelino lungo mancini in tuffo si prova ma non riesce a far suo lo vale quindi sarà un terzo tentativo aumento di peso invece per la linea difensiva estense che schiano chiletti nemmeno a farla apposta e tema out appunto per coach jaccarino e vuole vederci chiaro in questi ultimi due tentativi per i trappers da linea d'attacco mi piacerebbe sempre vedere i compagni di squadra che vanno ad aiutare il running back a rialzarsi dopo dopo un placcaggio me ne sono un po lamentato prima effettivamente è un qualcosa che che dà anche il senso di squadra sì decisamente sì comunque ora è richiesto veramente uno sforzo importante a tutto il team trappers la linea d'attacco in particolare perché a pochissime yard dalla dalla enzon il loro sforzo deve moltiplicarsi perché devono dare il tempo necessario a a fedeli o ai running back per trovare lo spazio quindi sarà molto importante in questo caso il pacchetto il pacchetto della linea d'attacco vediamo cosa cosa chiama coach jaccarino e doppio running back probabile palla garbarino e infatti bloccato però dal numero 31 quadretti che è arrivato dritto si è aperto il buco ma ha letto perfettamente la giocata da un fondamentale per i trappers vediamo un po palla per stefano setti ma il 45 entra intoccato dentro l'attacco trappers e chiaramente se la tua linea permette l'ingresso in questo modo non puoi non c'è giocatore che tenga è difficile riuscire a portare avanti il pallone e no se il linebacker avversario entra con questa facilità poi anche giocare risulta molto 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 complicato ottimo siciliano e invece in avvio di girone ci aveva dimostrato delle grandi qualità come come anni perché si riscopre in questo caso linebacker da quindi giocatore dalle molte qualità il numero 45 della formazione estense peccato peccato perché era una buonissima posizione adesso nuovamente dobbiamo chiedere gli straordinari alla difesa magari riuscendo a recuperare il pallone certo che quando il tuo attacco in una condizione così non riesce a segnare diventa difficile la mente a cappellini un po di baruffe no di baruffe in campo un po di nervosismo soprattutto immagino per la difesa la frustrazione del dover tornare in campo dopo un turnover quindi sicuramente adesso ci sarà voglia di dimostrare di far vedere non è stato un caso ecco cinque uomini in linea per la difesa dei trappers che vogliono quindi fermare il gioco di corse avversario e subito sousa fa vedere tutte le sue qualità con un ottimo ottimo placcaggio indietro per per i trappers sarà un terzo e otto intanto viene chiamato un nuovo tryout dai trappers questa volta chiamato da coach oregano defensive coordinator che probabilmente vorrà cercare di mettere ulteriore pressione costringere poi al pant l'attacco l'attacco di ferrara quindi vediamo un attimino chiaramente il secondo quarto sta avvolgendo al termine quindi chiaramente anche riuscire a a obbligare al pant l'attacco l'attacco di ferrara potrebbe essere importante per smuovere quello zero dal tabellone sicuramente la situazione di prima dal punto di vista mentale non aiuta soprattutto il nostro attacco se qui la difesa dovesse riuscire a dimostrare e quindi a mantenere quella che è il focus finora e a dare la palla al nostro attacco in una posizione di campo buona probabilmente l'obiettivo dei coach adesso è mettere un po di punti sul tabellone terzo e 9 quindi per l'attacco di ferrara è uscito cappellini entrato il numero 14 come running back se non erro trips scaglia chiaramente prova il lancio ma viene ben preso dal numero 51 giovannini si giovannini che riesce a placare benissimo il ricevitore e poi lo vedo indicare la sideline probabilmente una chiamata ben fatta dal dal coach che gli ha detto dove andare ed era proprio il punto giusto quindi bene così quarto tentativo 10 yard le aquile entrano in campo con il pantin ovviamente da quella posizione diciamo che era una scelta è una scelta abbastanza logica ma anche con questo punteggio penso nessun coach rischierebbe di far ripartire l'attacco liverotti al ritorno protetto da faenza vediamo il solito romagnoli al calcio attenzione perché il vento è contro in questo momento quindi magari potrebbe aiutare i trappers var romagnoli al calcio infatti prova a esplorare l'esterno però a loro il rimbalzo è favorevole quindi prende altri 3 4 yard c'è la posizione di campo è buona è 40 dalle 40 ha fatto il tempo comunque ottima la posizione di campo c'è da dire romagnoli conoscendo il vento probabilmente essendo un chi che è anche molto esperto non ha cercato un calcio alto e quindi facilmente influenzabile ma è andato più su una calcio potente e dritto agevolando quindi rimbalzo poi verso le zone avversarie di noi in campo l'attacco con setti il ritornatore trappers liverotti è comunque un giocatore che ha dimostrato buone abilità nel ritorno quindi anche dargli palloni semplici da ritornare non è una scelta auspicabile ora infatti ottima dai massi altro incompleto da parte dei trappers c'è un attimo i cubi fedeli da registrarsi anche visto comunque l'alternanza dei ricevitori c'è una grossa differenza in modi di eseguire lo schema ora bene la linea che da tempo ma fedeli in questo caso non è preciso e la palla e il ricevimento alta per setti ed è già un terzo down alla fedeli si muove setti e riceve sezione spettacolare spettacolare di riccardo 7 in testa a due giocatori delle aquile il numero 25 il numero 17 che avevano fatto il meglio perché non si può assolutamente dare la colpa il cornerback alla safety per questa ricezione questa è tutta farina del sacco di riccardo e ci ha dimostrato ancora una volta di che pasta è fatto assolutamente ho ancora negli occhi la ricezione fantastica alla fine partita contro contro ravenna un qualcosa di indescrivibile quindi benissimo benissimo questo questa ricezione intanto ferrara vuole ragionarci su vuole pensarci su quindi time out da parte dei coach di ferrara ed ecco che anche l'attacco trappers va tutto intorno a coci a carino è sicuramente questi due viaggi in red zone non hanno fatto piacere al coach al defensive coordinator delle aquile che ha deciso un attimo di di chiamare a sei giocatori per indicare un po quelle sono le situazioni critiche vediamo un po gli aggiustamenti che porterà tuttavia questo è anche un vantaggio per coci a carino che ha un momento in più per parlare con i suoi e fargli capire le sono le sue intenzioni per questi quattro giochi e ci hanno portato vicinissimo alle zone parte lo snap c'è tempo bellissimo questo lancio lascia uno sistema uno schema bene seguito redditi era completamente solo in end zone connessione perfetta fedeli redditi e quindi anche i trappers riescono a mettere i primi sei punti a tabellino e camorani è chiamato al calcio per provare aggiungerne uno sì sì ottimo schema disegnato da parte dell'offensive coordinator dei trappers difesa delle aquile si è fatta sorprendere ha lasciato veramente redditi solo nella fretta di esultare si dimentica di entrare come holder redditi quindi va bene così un po glielo concediamo c'è da dire che non era lui no il holder designato fino all'ultima partita se non sbaglio era tarroni quindi probabilmente non era abituato a questa posizione il calcio viene bloccato viene bloccato da dalla difesa di ferrara e quindi tiene il il punteggio dei trappers fermo sui sei punti attenzioni uomo a terra però il numero 10 europa che finora aveva fatto un'ottima partita nel tentativo di riportare questo pallone probabilmente sono frenati addosso due o tre giocatori tra cui anche qualche compagno di squadra e la situazione non mi sembra molto buona anche perché il ragazzo non riesce ad alzarsi ci sono in campo sta entrando in campo anche il sanitario ancora il pubblico che incita a dimostrare attributi alla squadra di casa è una una partita che era partita scusate il gioco di parole piuttosto male per per i trappers adesso verso la fine del secondo quarto sembra che la squadra si stia un po svegliando camorani al calcio ne parla con il numero 90 gronc calvi di coenzo scusa non avevo seguito stavo guardando un attimo il giocatore europa che viene accompagnato fuori da i compagni di squadra visto anche il diciamo i play off raggiunti difficilmente lo vedremo un campo oggi nonostante magari gli auguriamo ovviamente che non sia nulla potrebbe anche recuperare ma non credo che la croce staff lo voglia rischiare assolutamente assolutamente camorani al calcio un calcio profondo aiutato anche ovviamente dal vento arriva capitozzo francesco fermato da baino si si è fermato da baino e vediamo una flag tanto c'è una flag c'è stato un po di confusione anche nel nel team del kick off da parte dei trappers abbiamo visto un po di di scambi di posizioni eccetera vediamo un po vediamo pushing the back da parte del numero 12 bindini se non ho capito male e questo di l'attacco delle acule comincia a 15 yard indietro rispetto a dove capitozzo aveva portato il pallone peccato perché aveva fatto un ottimo ritorno il giovane giocatore estense vediamo invece a fianco di scaglia al posto di cappellini il numero 20 misi prima numero 20 viene subito fermato bloccato nella morsa di calvi di coenzo proprio mi sembra nella difesa trappers scaramelli scaramelli e si sta dimostrando un po la spina nel fianco di questa linea d'attacco e finisce qui il primo quarto scusate il primo tempo volevo dire finisce qui il primo tempo il punteggio e 13 a 6 per per ferrara che serviva sì assolutamente per tenere aperta la partita e dare un segnale verso gli ultimi due due quarti della stagione dei trappers grazie per per essere stati con noi e ci rivediamo tra pochissimo e a pochissimo grazie a tutti 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 entra in campo grazie a tutti 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 time out team out grazie a tutti 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 tentativo e grazie a tutti 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 Sosa grazie a tutti 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 grazie a tutti